Penso di doverne chiarire bene una cosa, e cioè che sono venuto a Tomston per restarci. Credo che tutti voi vogliate restarci, e tutti noi vogliamo una città e un avvenire. Ma non possiamo avere un avvenire se la città non prospera, e non può prosperare con le continue sparatorie nelle strade. C'è un solo sistema per liberarsi dalle pistole, e cioè usare la pistola. La legge deve essere imposta. E spero che voi lascerete che mi assuma io questo compito per tutte le famiglie. Ho finito. Spero che arriviate a casa sani e salvi. Grazie.